Scopriamo insieme le novità su Termiplan 2015 Ipotizziamo di avere un vano già creato e con gli stili già assegnati Avviamo Termiplan 2015 Ed andiamo in gestione zone In questa sezione è possibile assegnare per ogni vano presente nel disegno una o più zone termiche Clicchiamo ad esempio su Zona termica riscaldata E selezioniamo il vano Cucina In questo modo abbiamo assegnato alla cucina la zona termica riscaldata Grazie a tutti Grazie a tutti